L'autorazione della palestra ne abbiamo già parlato, quindi è inutile tornarci sopra. Dell'adogamento del campo sportivo ne avevamo parlato negli anni scorsi e finalmente dovremmo vedere la luce questa primavera, questa estate. Verrà fatto un campo in sintetico A7, anche per andare incontro alla brutta stagione che c'è sempre, che porta delle difficoltà anche nel portare avanti la stagione soprattutto dei ragazzi più giovani. Per quanto riguarda il bando dell'area tennis, quest'anno scade la convenzione che abbiamo in essere con il circolo e quindi andremo a fare a breve una manifestazione di interesse per la concessione dell'area del tennis. Per quanto riguarda i patrocini e supporto progetti abbiamo il Giro d'Italia, che è una cosa molto importante, un evento che secondo me è di portata nazionale, quindi avremo un evento di portata nazionale a Rio. Quest'anno verrà riproposto il torneo di calcio 5 estivo da un'associazione sportiva del paese a cui noi comunque daremo supporto e insieme con l'Irene Lanza, l'assessorato alle politiche giovanili, portiamo avanti per il quarto anno consecutivo il torneo delle scuole medie, facciamo 4 tipi di torneo, calcio 5, basket, volley e fa la mano per i ragazzi delle medie.